Salve a tutti cari followers, decima edizione di Etnacomix dopo due anni di pandemia, infatti si vedono i risultati, già è morta una persona, sto scherzando, siamo qui con Ghostbusters Sicilia per parlare un pochettino come sta andando la fiera, il caldo che ci sta uccidendo, il caldo che ci sta uccidendo, il caldo che ci sta uccidendo, allora dopo due anni di pandemia, come sta andando la fiera? C'è affluenza riguardo il mondo di Ghostbusters? Assolutamente sì, voi complici anche all'uscita del nuovo film che ha fatto il suo esordio l'anno scorso, indubbiamente c'è stato un rilancio fortissimo del brand e c'è stata una grande affluenza del nostro stand in questi primi due giorni di fiera. Questo è molto bello anche perché Ghostbusters avanta 30 anni di storia e infatti quindi è bello vedere anche tantissimi ragazzi, prima ho visto tanti bambini che vedevano quindi è molto 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 bello. Parlando di film, sono usciti due film sul mondo di Ghostbusters, uno che non è che fa già si vede alla faccia, uno dal femminile e un altro invece il nuovo Ghostbusters Legacy. Cosa ne pensi di questi due film che sono usciti? Guarda io del primo che hai nominato non ne so niente, più o meno si vociferava che era una sorta di oggetto mistico, un po' come i coccodrilli bianchi nelle foglie di New York. So che probabilmente farà più o meno la stessa fine del gioco ET dell'Atari, lo andranno seppellire nel deserto perché se non lo ha seppellito la critica qualcun altro prima poi lo farà. Sono tutti molto allegri su questo film. La differenza è che questo non lo riesumeranno dopo anni, lo lasceranno lì. Sono tutti contenti del film che è uscito praticamente. Teniamo a precisare una cosa, non è come molti tendono a dire un attacco al femminile, assolutamente. Perché ricollegandoci al nuovo Ghostbusters il meglio lo danno proprio le attrici. Esatto. Quindi hanno dimostrato che si può fare un gran bel film a femminile. Se i problemi stanno da un'altra parte, purtroppo. Esatto. Invece Ghostbusters Legacy, quindi questo nuovo cambio turno, quindi ragazzini un po' alla Stranger Things. Hanno fatto una specie di Stranger Things che è fantasmi, quindi molto 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 bello. A voi è piaciuto? A me è piaciuto molto. Ha anche il fatto che fondamentalmente, nonostante sia a livello di trama molto chiamato, in realtà noi abbiamo visto e abbiamo avuto e abbiamo trovato tutto quello che volevamo. Esatto. Sì, sì. Assolutamente. Dico, se uno è appassionato di Ghostbusters, una persona... Questo film contiene tutto quello che vorrebbe vedere o che voleva vedere da anni, senza aggiungerlo o togliere niente. Assolutamente. Punto. È proprio una caramella messa lì. Questo è piaciuto. Ghostbusters è nel mondo dei videogiochi. Ghostbusters, video ludico, non ha avuto tante trasposizioni. Magari vorresti un gioco in next gen, magari particolare, o tutta la città, quindi magari dove devono prendere fantasmi tutta la città con delle storie particolari. Cosa è fattibile secondo voi? Allora io posso dirti che intanto a livello video ludico, tralasciando i titoli anni 90, abbiamo il terzo capitolo di cui hanno fatto la remastered dal 2019-2018 ed è un gran bel gioco e tanto da essere canonizzato come realmente terzo film. Poi hanno fatto questa nuova VR Experience che è fenomenale, dove tu puoi girare dentro la Firehouse. Hanno fatto l'Experience Ghostbusters Rollercoaster pure quella è una cosa interessante. Ora c'è, mi pare, in via di sviluppo un nuovo capitolo si vocifera dove continuerà l'esperienza da rookie all'interno del team, ma potrebbe essere marginalmente presente, a differenza dal capitolo precedente, il vecchio team, vecchia squadra. Tu vuoi aggiungere qualcosa? No, lui non vuole aggiungere niente. Buona fiera a tutti, grazie mille a Ghostbusters Sicilia, vediamoci nei nostri social. Ciao! Siamo pronti a credere in voi! Te varevo!